ciao a tutti amici di pillole eccoci qui a parigi questo weekend in compagnia di loro due sono con due modelle a parigi per un weekend dov'è secondo me vado velocemente a comprare un test di gravidanza 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 Sì, 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 sì. praticamente sono venuti ci hanno vomitato un dolce sul tavolo allora siamo finalmente arrivati in casa stasera andiamo a dormire così tutti col pigiamino è una tv con la casa attorno visto che il tuo compleanno è coperta una ma è chandone rosso e si prendono le uova cosa sanno per domani mattino il mio breakfast ma poi quando torniamo quindi c'è ancora uno sono no poi natural sono sono Oggi stiamo andando a fare un casting, prenderanno me o prenderanno lei? Sì, è bellissima! Questo gusto mi lascia sempre senza fiato! Amore ti ho comprato questa roba da Zara? Anche questa! Cazzo! Lightroom e capocollo ragazzi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Siamo arrivati! Ma vabbè ma non potete entrare in coppia, infatti noi siamo un trisom! Sì, non ho capito come sia Parigi una città romantica! Grazie a tutti! 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 La Space Mountain! Grazie a tutti! đれない no 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 da faucuna It's a wrap Che dite? L'abbiamo esaurito?